Se sapere ascoltare è sempre stata la tua specialità e hai sempre preferito fare squadra invece che fare da solo, se non ti sei mai tirato indietro davanti a un problema e ora sei pronto a una sfida più grande, entra nel nostro Customer Care. Il tuo futuro può cominciare da qui. Da sempre investiamo nella tecnologia più evoluta che esista, l'uomo. Fineco, la banca che semplifica la banca.